I fenomeni del lavoro nero e del caporalato rappresentano una piaga anche per il Molise. Situazioni di irregolarità sia dal punto di vista della sicurezza che da quello salariale e contributivo che nonostante l'impegno delle istituzioni preposte restano ancora ben radicate anche nel nostro territorio. Dalla Prefettura di Campobasso arriva una iniziativa che va nella direzione di far emergere il sommerso e combattere l'illegalità. Si tratta dello sportello lavoro e legalità che sarà attivo da domani 30 giugno. L'iniziativa rientra nelle attività previste dal progetto attenzione al lavoro finanziato dai fondi FAMI per l'attivazione di un punto informativo. Il servizio sarà operativo nello sportello unico per l'immigrazione della Prefettura di Campobasso. Sì perché molta della mano d'opera utilizzata soprattutto in agricoltura ma anche nell'edilizia è rappresentata dai immigrati. L'obiettivo dello sportello è quello di fornire informazioni e competenze sulla normativa in materia di contrasto del caporalato appunto ma al tempo stesso sui diritti e i doveri di lavoratori e datori di lavoro. A fornire chiarimenti ci saranno i dipendenti della Prefettura, della Questura e dell'Ispettorato del Lavoro. Lo sportello sarà attivo il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17. Sarà possibile accedere solo previo appuntamento.